Beni per uno valore di circa 3 milioni di euro sono stati sequestrati questa mattina dagli agenti della Direzione Investigativa Antimafia di Caltanissetta in esecuzione ad un decreto di sequestro emesso dal Tribunale del Capologo Nilseno, sezione misure di prevenzione a seguito della proposta per l'irogazione della misura di prevenzione personale e patrimoniale firmata dal Direttore della DIA. Sotto chiave sono finite quote e compendi aziendali di quattro società di Gela riconducibili all'imprenditore giolese Filippo Ciaccia, 68 anni, ritenuto degli inquirenti vicino al clan di Cosa Nostra famiglia Emanuello. Secondo le risultanze investigative giudiziarie ricostruite dagli uomini della Direzione Investigativa Antimafia, emerge il profilo e la caratura criminale di Ciaccia, quale persona vicina a Cosa Nostra è, sottolineano gli investigatori, a disposizione della stessa ed addirittura del boss capo mafia giolese Daniele Emanuello, deceduto il 3 dicembre del 2007 a seguito di un conflitto a fuoco avuto con la polizia nel suo covo di Villa Priolo, nell'Annese. Secondo sempre le indagini, Daniele Emanuello avrebbe sempre considerato Filippo Ciaccia soggetto capace di infiltrarsi nell'economia orbitante attorno agli affari del petrolchimico di Gela. Strategia criminale, di fatto, sottolinea la DIA, concretizzatasi con la costituzione di società doc solo formalmente intestate a terzi soggetti ma risultate dalle attività di indagine e giudiziarie riconducibili proprio a Ciaccia.